Torniamo alla proposta di deliberazione a venta d'oggetto per favore revoca della deliberazione del Consiglio Municipio Roma 7, numero 7 del 3 ottobre 2015. Presidente della Commissione Cofano, prego. Grazie Presidente. Allora, consigliere Cofano, ricordo, l'ho già detto anche all'inizio della seduta, che è stato presentato un ordine del giorno su, per favore, scusate, scusate un attimo per favore consiglieri, consiglieri per favore, per favore, richiame i consiglieri, per favore, scusate anche il tavolo della maggioranza, per favore, Allora, scusate, faccio quasi ricordo, è stato presentato un ordine del giorno su questo tema e che è comunico che il consigliere Matronola su questo punto ha chiesto di intervenire per mezz'ora, grazie. Allora, proposta... Allora, consigliere Cofano, per favore, presenti la proposta, grazie. Presidente, grazie Presidente, io però vorrei che ci fossero le condizioni perché non... Di tutti? No, no, di tutta l'Aula, insomma. Presidente, per favore, consigliere, consigliere Ricrotti, consigliere Ciancio, per favore, Stiamo iniziando il consiglio, per cortesia. Chi vuole parlare, per favore, esce dall'Aula e parla. Grazie. Allora, per cortesia. Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, consiglieri tutti. Allora, ci accingiamo oggi a votare la delibera, il cui oggetto è verta intorno alla revoca della deliberazione numero 7 del 3 ottobre 2013. Allora, il leader di questa delibera è stato piuttosto longevo, si è discusso ampiamente sulla questione. La volontà della Commissione e dei consiglieri su questo era quello comunque di sanare una situazione che per troppi anni è stata comunque gestita in modo probabilmente non del tutto consono da un punto di vista... Grazie Presidente, no, dicevo, l'oggetto della delibera nasce in senno al fatto che si è deciso di cercare di sanare una situazione che per molti anni, più di dieci, si trovava rispetto all'oggetto. Allora, la questione della sosta tariffata delle aree assegnate all'Associazione di Guardia Macchina Autorizzate fu approvata da quest'Aula il 3 ottobre 2013 e verteva comunque sull'assegnazione di alcune aree dei cui più importanti erano lo square, diciamo 5 aree, lo square della Togliatti, il terminal Anagnina di Via Giudice e il parcheggio il sottopasso della Tuscolana e il centro commerciale Anagnina 2 con una serie di rispettivi stalli che comunque consentivano una quota tariffaria che nonostante trattasi di parcheggi a rotazione garantivano un introito al municipio di 0,15 centesimi al giorno per posto auto, a prescindere appunto dal numero di rotazioni che si sarebbero susseguite. Nel corso del tempo si è verificato anche di concerto con gli uffici che la Convenzione, il capitolato stipulato in seguito all'approvazione di quella delibera, il capitolato prestazionale aveva diciamo delle anomalie per cui di fatto la via temporanea per cui si era votata quella delibera nel capitolato prestazionale non era contemplata. Siccome noi votammo la delibera in cui era scritto che fino all'espletamento del bando si sarebbero affidate in via temporanea quelle aree il bando in questi due anni non c'è stato per tutta una serie di ragioni la nostra delibera va a dare comunque una tempistica entro la quale questo bando va espletato. Per cui noi oggi votiamo questa delibera togliendo alcune aree che erano state originariamente inserite nella precedente delibera. Le aree che vengono tolte sono quelle del sottopasso di via Tuscolana dove è noto già ormai a tutti i consiglieri il concessionario ha fatto un'istanza di risarcimento all'amministrazione comunale in quanto quell'area adesso è sotto cantiere pertanto gli stalli che non sono soggetti alla sosta tariffata e questo dal punto di vista dell'ACA crea chiaramente una situazione di vizio tale per cui è doveroso un risarcimento. Donde evitare che questa situazione si protragga anche nel bando successivo si è optato per togliere quell'area in assegnazione. Oltre al sottopasso di via Tuscolana si è optato anche all'eliminazione della termina alla Ragnina di via Vincenzo Giudice per un motivo molto semplice perché il nuovo contratto di servizi di ATAC, SPA e Roma Capitale prevede che i parcheggi di scambio in prossimità di importanti stazioni nodo di trasporto non siano soggette più a sosta tariffata. Questo con il dibattito che si è seguito in Commissione si è reputato pertanto di doverla esonerare dal nuovo bando. Al netto pertanto noi parliamo di assegnazione delle aree del centro commerciale Anagnina 2 con 322 stalli e lo square centrale di Viale Palmino Togliatti con 100 stalli. La delibera prevede che entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione auspico sia in data odierna si proceda all'emanazione del bando. Dal punto di vista amministrativo esprimiamo comunque anche di concerto con il direttore del dottor Carlizza che ha fornito un parere non tecnico perché non si tratta di una delibera questa è una delibera di indirizzo per cui non è un parere tecnico ma un parere comunque in senno ai principi generali in materia di contratti pubblici e diciamo per ciò che attiene comunque le norme di legge e di settore su questo. Il direttore con questa nota comunque ci dice che la deliberazione appare comunque coerente ai fini chiaramente di una concreta azione amministrativa degli uffici municipali e diciamo i passaggi della delibera sono coerenti col puntuale rispetto appunto dei principi e delle disposizioni di legge generali e di settore. Oltretutto le individuazioni delle aree non parcometrate da destinare alla gestione del servizio della sosta è prerogativa del Consiglio Municipale pertanto si è reputato doveroso avviare delle modificazioni e l'emanazione di un apposito avviso pubblico è comunque conforme alle predette deliberazioni e al capitolato prestazionale che allo Stato regola appunto i rapporti contrattuali fra l'affidatario in via temporanea e l'amministratore. e l'amministrazione. Per cui noi oggi con questa delibera saniamo insomma questo passaggio e auspichiamo che dopo appunto mi sembra che siano 12 anni dal 2003 si proceda finalmente e doverosamente al bando pubblico per le aree deliberate. Auspico che oggi l'aula tutta si esprima in questo senso. Grazie. Grazie consigliere Cofono. Allora apriamo la discussione. Presidente, perdoni, a titolo personale volevo fare una richiesta a lei e soprattutto all'aula se mi permette un minuto. Però è 30 secondi. Ieri purtroppo oltre alla scomparsa del nostro bravissimo cardiologo di strada è venuta a mancare un'altra persona importante del nostro municipio per la nostra amministrazione. Una bravissima vigilessa di 51 anni che ieri pomeriggio è stato il funerale, Anna Rita Renzi e volevo ricordarla magari se lei anche la può ricordare in qualche modo come ha fatto bene per il dottor Calabro, però ci tenevo perché la signora, la signora, non la vigilessa. La signora Anna Rita ieri ha commosso quasi mezzo quartiere. Grazie. Grazie consigliere Salitano. Io credo di interpretare anche su questa la volontà di tutto il consiglio. Chiedo insomma che tutto il consiglio, penso che il consiglio si senta vicino alla famiglia. Io non sapevo di questa scomparsa, mi dispiace, però credo insomma che penso di magari alla fine della discussione di 30 secondi di riflessione e di attenzione. Grazie. Grazie a lei. Allora, apriamo la discussione su questo, sul primo punto dell'ordine del giorno. Allora, il consigliere Cofano ha presentato l'atto, io ho la richiesta di intervento del consigliere Matronola per 30 minuti. E non ci sono altri interventi. Prego consigliere. Così ci divertiamo un attimo. Che devo parlare o posso parlare? No, ok. Dammi il tempo. 15.07, ok. Giuliana che c'è? Sta controllando se il tempo effettivamente... Faccia sentire pure noi. Apri su te, dai. Prego, scusate. Allora, ringrazio il consigliere Cofano che ha illustrato magnificamente tutto l'iter ultimo della delibera, anche se devo fare un accenno, non sono due anni che dobbiamo fare il bando, ma sono la bellezza di 12 anni. Due anni. Perché 12 anni? Perché la delibera, la delibera 216 è del 2005, qui abbiamo iniziato nel 2003. Pertanto, iniziando nel 2003, questo appalto, questo affidamento diretto per pochi centesimi, e che è successo? 2003, nel 2005, entrando la 206, dice, noi dovevamo subito, noi, i nostri antenati, antenati consiglieri, dovevano iniziare immediatamente a metterla a bando. Saludiamo la Presidente, facciamo gli auguri, perché mi sembra pure giusto. Mi sembra la cosa giusta. E quindi che è successo? Che nel 2003, entrando l'Aga qui dentro, in questo municipio, nel 2005 esce la 216, che ci diceva all'incirca come ci dovevamo comportare con i parcheggi a pagamento. E' passato il 2003, siamo arrivati al 2008, nel 2008 ci viene sottoposto nuovamente questo bello affidamento, sempre per tutelare i posti di lavoro, si è ben chiaro, mica che sono state fatte per altre cose. Abbiamo tutelato i posti di lavoro e nel 2008 facciamo una commissione, viene fatta un ADD e finisce la storia. Questo per richiamare un po' per quelli che non fanno parte della commissione, sto dicendo l'iter, non è che sto dicendo per altri. Arriviamo nel 2008, ho detto, ci viene sottoposta in commissione questa benedetta, questa benedetta, questa benedetta affidamento, con l'intenzione però che dobbiamo fare il bando subito dopo. Passano altri cinque anni, anziché fare il bando, nel 2013 ritorniamo un'altra volta alla carica, la carica dei 101, io la chiamo. Perché? Perché tutti quanti ci siete cascati in questo giochetto. questo giochetto che io sono stato l'unico che si è opposto, si è opposto dicendo guardate che state commettendo un errore forte, non si può fare così, nulla toglie all'aga, nulla toglie a nessuno, ma però per una legalità, per una maggiore chiarezza e giustizia è bene che venga fatto un bando di gara. E non c'è stato niente da fare, ho sbattuto contro i muri, ho sbattuto contro i muri di gomma, mi rimbarzavano, il bando è fatto, il bando no, il bando sì, il tutino che mi diceva guarda che l'ho visto in giunta, no non l'ho visto in giunta, e questo bando non usciva fuori. Infatti non è uscito fuori il bando, è uscita fuori la delibera. Dopodiché la commissione legalità e sicurezza, di come io sono l'illustre presidente, scusate per poco, forse per una settimana, forse per quattro mesi, però fino alla fine della caduta del comune, se cade a giugno, io rimango tale, e che succede? Che succede? Che si smuove tutto un movimento strano. Una delibera perfetta, perfetta, è stata ritirata in consiglio, ma non è stata ritirata, come dice il presidente Villa, che oggi ci ha fatto approvare dopo un anno e due mesi i verbali, no approvare, no approvare, diciamo che ci ha redotto dicendoci guardate che ci sono dei verbali da approvare fino a dicembre del 2014, sono recenti, uno se si ricordasse quello che ha fatto nel 2014 sarebbe un genio, però oggi giustamente il presidente ha detto non c'è contestazione, quindi si ritengono approvati, ma non si possono approvare, non si approvano i verbali, però si ritengono approvati. Vabbè, questa è la legge di questo consiglio. Andiamo avanti. E quindi neanche vedo in quei verbali quello che si è detto proprio su quella delibera che fu ritirata in consiglio. Adesso ritorniamo alla carica. Abbiamo fatto parecchi percorsi in commissione, parecchie liticate, parecchi convincimenti, parecchi erano un po' non convinti di quello che stava succedendo. Lo stesso direttore non l'ho visto molto convinto su alcuni atteggiamenti che riguardavano l'area evoca dell'Aga, perché ha detto che lui addirittura non avrebbe messo manco il visto, da quello che ho capito, perché non lo metteva. Io ho fatto una cosa, e me lo ricorderò sempre, e vorrei ricordare pure voi, specialmente l'assessore Morgia, io feci una diffida, subito dopo che è stata approvata in consiglio, che poi è una cosa strana, l'unica volta che viene approvata in consiglio, uno già doveva capire che c'era qualcosa che non andava, perché portarla in consiglio, anziché fare o in giunta, o farla in commissione, o fare una semplice DD, come è stata fatta in tutti gli anni precedenti, questa volta si è cercata la forza del consiglio, perché effettivamente c'era qualcosa che non andava, non poteva andare, perché un affidamento che va avanti dal 2003, arriviamo al 2015, e ancora continuiamo a fare affidamenti diretti, sempre sullo stesso sistema, poi c'è la Roma mafia capitale, per far mettere tutti quanti a paura, ma non c'era roba di mafia, non è roba di mafia questa, assolutamente, è soltanto che c'era qualcosa all'interno, all'interno del meccanismo politico, che non andava, io non sono riuscito a capirlo, chi è che si è messo contro questo meccanismo? Contro questo bando, famoso bando che dovevamo fare nel 2013, nel 2013, ma avete violentato, e lo dico, perché in questo consiglio, in tutte le maniere ho cercato di bloccarlo, in tutte, ho detto no a toglierlo, a bloccarlo, a bloccare, però l'ordine era, l'ordine era, votate, e qualcuno pure dei nostri ci è caduto, nel votare, non soltanto il PD, anche qualcuno dei nostri, anche qualcuno dei loro, anzi loro, ci sono caduti, nessuno ha votato contro, tra l'eccezione, io e altri due, forse tre, che forse ero riuscito, forse non mi ero spiegato bene, però a qualcuno gli era arrivato il messaggio, guardate che non si fa, ad altri invece il messaggio, qua gli è entrato e qua gli è uscito, abbiamo tenuto per 13 anni, questa situazione in mano, l'assessore Morcia, ora faccio anche il nome, l'assessore Morcia, la causa, mi dispiace dirlo, ma è partita tutta da lei, e mi dispiace anche dirlo, che la Presidente Fantino, che io stimo, perché per carità, a parte gli attacchi politici e tutto quanto, però io la stimo in certi atteggiamenti, ha capito troppo tardi, che c'era qualcosa che non andava, e, perché la stessa giunta, dove doveva fare questo benedetto bando, che non usciva, non veniva partorito, poi si sono susseguiti, tutte strane voci, no, c'è quell'assessore di mezzo, no, c'è quell'altro assessore di mezzo, no, guarda che non è lui, è quell'altro, addirittura, siamo ritornati a un vecchio assessore, a un vecchio assessore, che poi, non so se è diventato assessore comunale, o qualche cosa, era un consigliere, non lo so, non voglio fare il nome, perché non mi sembra il caso, e dove questo, pare che era stato lui, a portare sta benedetta associazione qua dentro, ben venga, l'associazione che dà il lavoro, io l'ho ripetuto, dà il lavoro, però non rispettava alcuni parametri di questo lavoro, e poi arrivare adesso, a dire, ma porca miseria, posso dire porca miseria, sì, se può dire, consentitemelo, ma come è possibile, ma come è possibile, dal 2003, affidare alcune aree qua dentro, cioè, io penso, a 15 centesimi a posto auto, ma io devo dire, ma non vi salta in mente, nel cervello a dire, ma siamo proprio scemi, ma siamo scemi, perché siamo scemi, me ci metto pure io nel 2008, dico, sono scemo, perché a 15 centesimi a posto auto, al giorno, è una cosa vergognosa, cioè, questi fanno affari, se fanno affari così, l'Italia va a pezzi, perché va a pezzi, cioè, anziché fa 85 al municipio e 15, dall'altra parte, noi abbiamo fatto l'opposto, perché giustamente, noi siccome siamo bravi, me ci metto a mezzo pure io, abbiamo fatto 15 centesimi a noi, più IVA, naturalmente, scusate, perché, non so, la tavola da un'IVA, 15 centesimi a noi, e 85 centesimi a loro, cioè, è una pazzia, è una follia, è una follia, io credo che, ora succederà una cosa, quando vedranno adesso, una revoca di questo, credo che ci sarà un boomerang, anche in altri municipi, perché altri municipi, non ho capito come hanno fatto, hanno usato lo stesso sistema, è il stesso, ma non mi deve dire sì, mi deve dire no, è sbagliato, perché, o noi abbiamo copiato loro, o loro hanno copiato noi, perché questo è il problema, cioè, copiare, abbiamo copiato, ma non siamo stati in grado di copiare, abbiamo copiato male, perché abbiamo copiato le stesse stupidaggini, che sono state fatte negli altri municipi, abbiamo ripetuto, non so se gli altri municipi, prendono 15 minuti, 15 centesimi a posto auto, che poi ci potremmo servire, con sta crisi che c'è al comune, non sappiamo neanche, mi dispiace dirgli all'assessore, non è un attacco a Levi, me ne guarderei, però, mi dispiace anche dire, che non sappiamo neanche, quanto, che introito entra, passa per questo municipio, passa, no entra, passa, passa e poi se ne va, non lo sappiamo, mi sembra no? però, sappiamo, è qui che è l'assurdità, e io credo che il Presidente, il Presidente, se ne è un po' risentito, cioè, c'è arrivata una richiesta di risarcimento danni, di 72 mila euro, 72, sbaglio, se so, sbaglio, non sbaglio, ci ho azzeccato, 72 mila euro, perché gli abbiamo tolto, i posti sotto al cavalcavia, che devono fare dei lavori, 72 mila euro, se so, e chi pagano? Non credo che verranno qui, non credo che verranno qui, qualcuno e dirà, facciamo il riconoscimento di debito, perché qualcuno ha sbagliato, ha sbagliato a non avvisarlo, a non avvisare l'aga, giustamente, visto che è sbagliato perfino, il capitolato dice una cosa, il Consiglio ne dice un'altra, e questi fanno, e noi facciamo, cioè, gli uffici hanno detto un'altra cosa ancora, e noi siamo a rischio di eventuali ricorsi, ma se 72 mila euro adesso, chi le paga? Cioè, se il giudice gli dà ragione, chi pagherà 72 mila euro? 72 mila euro, significa che su 100 posti auto, in due mesi, facendo i conti della serva, perché mi sembra che sono due mesi, per cui determinati lavori, facendo i conti della serva, lì abbiamo circa 350 mila euro, di guadagno sotto quel cavalcavia, perché 72 mila per due mesi, è diviso, facciamo a bimestre, sono 144, non è poco, quindi c'è un guadagno, però noi ci sono entrati, 15 centesimi al giorno, al giorno, al posto auto. Allora, non è una battaglia che ha vinto Matronola, qualcuno mi ha detto, è una battaglia tua, no, è la battaglia della legalità, della giustizia, soltanto che questa giustizia, è arrivata molto tardi, cioè quando i buoi sono fuggiti, noi abbiamo deciso, di farci giustizia, siamo ritornati in consiglio, abbiamo fatto commissioni, ma quanto ci è costato, perché poi, abbiamo fatto molte commissioni, che riguardano questo, mentre l'altra volta, quando abbiamo, nel 2013, abbiamo affidato, affidato, anzi, avete affidato, scusate, avete affidato, tutte quelle aree, c'è stata una commissione, cotta, mangiata, iscritta dopo dieci giorni, all'ordine del giorno, è finita, adesso, per evocare, quella concessione, abbiamo fatto, non si sa quante commissioni, non si sa le delibere, è buona questa, è buona quella, il direttore no, il direttore sì, il direttore aggiungi, togli, metti, leva, abbiamo fatto di tutto, ma ce lo potevamo evitare, ma quanti posti di lavoro abbiamo dato, quanti posti di lavoro, se lo facevamo noi, noi, diciamo noi consiglieri, e devolvevamo tutto quanto alla gente, avremmo trovato decine e decine di posti di lavoro, ve lo posso assicurare, nono Mino che fa la mattina, dai 7.30, fino a non si sa quanto, qua davanti, al centro commerciale, a Bianagnina, a 15 centesimi al giorno, ma come si fa ragazzi? Assesso, ma non ne pesa, sulla coscienza, e non mi dica che sia un ordine batteria, perché, io sto sassolino, sto sassolino, ma in sassolino che mi dava fastidio, ma no perché mi dava fastidio, perché vedevo che c'era proprio qualcosa che non andava, non andava, e lei assessore da che spigneva, spigneva, per cercare, ma andiamo avanti, c'ho l'atto pronto, c'ho il bando pronto, è tutto pronto, tutto fatto, tutto qua, ma sta montagna, non partoriva il topolino, c'è voluto, Cofano, che forse si è convinto, dietro magari, spinta della Presidente, perché sono sicuro che, la Presidente ha dato il suo assenso, la Presidente Fantino, credo che abbia capito, che c'era qualcosa che non andava, non sto difendendo l'operato da Fantino, sto dicendo, che forse, forse quando ha cominciato a guardare, avrà detto, ma qualcuno qua c'ha ragione, e io mi sono fidata, avrà detto, perché io avrei detto la stessa cosa, io mi sono fidata, tutto a posto, tutto ok, tutto ok, andiamo a guardare le carte, ma che è tutto a posto, c'era qualcosa che non andava, non è che voglio creare la crisi ingiunta, perché non ci riuscirei, con questo sasso, con questo topolino, però, però, caro Presidente, caro Presidente, quando sono venuti qua, a prendere i documenti per gli appalti, per gli appalti, quando è venuto il Vice Prefetto, i prefettizi, non so chi è venuto, perché noi giustamente non siamo informati di quello che è successo qua dentro, noi veniamo soltanto qua per votare e arsare la mano, però non è che qualcuno ci informa, politicamente e ci dice, guardate che stanno prendendo tutti quanti i documenti delle gare, non gli sono stati dati gli affidamenti, perché questo non gli è stato dato, perché se gli si dava, e se vedeva che dal 2003 va avanti sta storia, c'era qualcosa che non andava, allora questo municipio, guardando quello, sarebbe stato messo sotto la lente di ingrandimento, adesso è passato tutto, perché giustamente adesso è finito, adesso oggi votate, perché noi non partecipiamo al voto, cosa strana, non partecipo io al voto, ma credo neanche Forza Italia non parteciperà al voto, ma no per vendetto, per soddisfazione, non partecipare, no ho detto credo altri, noi no, può darsi pure, può darsi pure, e quindi, e quindi non partecipiamo, no per vendetta personale o per epica, è una scelta che io, diciamo, ho deciso in commissione, perché dopo che ho detto in tutte le maniere, ho detto che c'era l'errore, che era sbagliato, tutto qua, adesso venire qui e arzare la mano, e dire, sono favorevole a Revoca, mi sembra una stupitaggine, è un problema che è stato creato qua dentro, qua, è un problema che quelli che l'hanno creato, lo devono risolvere, poi se votate, se votate, o non votate, a me, e mi ricordo sempre una cosa, e poi concludo, perché credo che sono arrivato, credo, no? Ah, allora va bene, mi ricordo, mi ricordo, posso dire, perché forse, io parlo, come si dice, parlo con la suocera, che non rintende, no? Parlo col Presidente, e dico, Presidente, ma quando un consigliere, in tempi meno sospetti, dopo l'approvazione di questa, di questa benedetta delibera in consiglio, fa una diffida, fa una diffida, no? E su quella diffida ci mette due indirizzi, però ne fa partire soltanto per correttezza, non per cattività, per correttezza, che non volevo essere cattivo, ho messo in indirizzo, però non l'ho fatta partire, qualcuno, di quell'indirizzo, mi ha detto, ma che hai fatto, hai scritto pure al segretario generale, gli ha detto, perché, qual è il problema? Mi ha detto, no, ma sei sicuro? Gli ha detto, so sicuro di non averlo fatto, perché se lo facevo, qualcosa sarebbe successo, perché c'era tutto il papier pronto, mi sarei muzzicato le mani quel giorno, perché a vedere poi la risposta, la risposta che è stata data, era da procura della Repubblica, e siccome io ci tengo, agli impiegati che lavorano, perché anche io posso sbagliare, e anche io lavoro nel pubblico impiego, mi sono fermato, proprio mi sono fermato, perché quella risposta meritava, con la prima lettera mia, e la seconda lettera di risposta, degli uffici, di essere mandata, dove dove andare, perché era grave, quello che hanno scritto su quella lettera, cioè affermazioni, hanno mischiato, copia e colla, copia e colla, cioè una cosa, però, io più di una volta gli ho detto all'assessore, assessore Morgia, che vogliamo fare, assessore, ma perché dobbiamo continuare così, ma perché, cioè ma perché continuiamo, quando uno vi informa che c'è qualcosa che non va, ma anche destra, sinistra, centro, ma cercate di prenderlo per buono, non fate, non pensate sempre che quelli di destra, sono cattivi e quelli di sinistra sono buoni, quelli di destra sbagliano e quelli di sinistra non sbagliano mai, perché può darsi che quelli di sinistra ogni tanto, sono appannati, sbagliano, possono sbagliare, perché qualcuno, purtroppo l'ha indotti a sbagliare, sbagliano, sono 15 consiglieri, ma è possibile che 15 consiglieri, tu non hai votato, ecco lo so, come Marino, nessuno ha votato, però sta a governare, eh che devo fare, eh vabbè, allora voglio dire, cioè, questo vale adesso è andato per l'aga, per carità, ma per altre cose, per altre cose, io mi ricordo pure sull'ama, quando mi sono battuto sull'ama, che ho detto, ma come si fa a mettere, a pulizia dei cigli, dei cigli, con la raccorta differenziata, mi hanno dato tuo scemo, mi ha detto, ma sì, è così, è così, è così, poi che succede, andiamo con l'ama, in sala rossa, tutto pronto, tutto l'esercito schierato, siamo pronti, secchi verdi, buste verdi, sacchetti, ci abbiamo tutti, i volantini, bla bla bla, quindi partiamo il P&P, dall'altra parte del raccordo, c'era l'assessore presente, quindi non sto dicendo bugie, c'era pure il presidente che conduceva, tutto a posto, tutto pronto, tutto, siamo pronti, siamo pronti per partire, l'ama, mi sembravano i generali, qui due ragazzetti, che ci hanno mandato, no? E io gli ho fatto solo una domanda, una, non so se gli hanno ridetto il presidente, una, facciamo il P&P oltre l'accordo, giusto? Porta a porta, PAP, PAP, P&P che è? No? Facciamo il PAP, Torniamo all'ACA? Sì, sì, e no, perché fa parte pure di questo, PAP, oltre l'accordo, voi sapete, perché la presenza, questa è appena battuta, voi sapete, perché la presidente poi è pratica, perché ha girato oltre l'accordo, quindi ha visitato un po' quelle zone, un po', c'è parecchio verde, vero, l'assessore presidente, ci sono parecchie piante, quindi i prati vanno tagliati, i rami potati, le siepe potate, mandare mettiamo, o stralcio dell'erba, dove lo mettiamo? Voi siete chiesto? Faremo un altro consiglio sull'ama, consigliere Patronola, consigliere Patronola, che facciamo? Faremo un altro consiglio sull'ama, e infatti io ho detto, che mettiamo? Mettiamo l'erba dentro i secchietti, della raccorta differenziata, del porta a porta? Non era previsto, signor presidente, signor presidente, non è previsto, ha detto che forse si organizzeranno, coi compattatori, ma nessuno ci ha pensato, consigliere Patronola, che oltre all'accordo c'è il verde, c'è più verde che la città, della città, consigliere Patronola, per favore, per cortesia, questa è una cosa, la cosa bella, che purtroppo voi in certe cose, siete bravissimi a fare certe cose, ma poi vi perdete in alcune cose futili, cioè quando si parla dei secchietti, no, sto uscendo, quando si parla dei secchietti, cioè la domanda che io ho fatto poi, questo perché tanti non c'erano, io ho detto, ma adesso, quando taglieranno l'erba ai prati, deve passare mezz'ora, però torniamo all'acqua, per favore, quando taglieranno i prati, questi qua giù, ma se mettono il sacco nero a fianco ai sacchetti, differenziati ai contenitori, che gli succede? Stanno in contravenzione. Consigliere Patronola, non lo posso consentire di continuare a parlare dei problemi dell'acqua. Ho detto, parlo con nuora, così si inventa. Per cortesia, su. Mi sembra una cosa, forse poi Matronola sbaglia a dire cose, però le dice sempre sbaglia, a prescindere, come dice il consigliere Giuliano, Matronola, a prescindere, sbaglia sempre. Però, chiacca la dice? A parla male, Giuliano, a parla male, concluda il consigliere Matronola, Ogni tanto il consigliere Matronola ci azzecca. Ritorniamo adesso a noi. Questo per quanto riguarda, cioè per dirvi, che pure col TPL, col trasporto pubblico locale, è successa la stessa cosa. Discussioni, bla, 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 300 pagine, 50 pagine, 30 pagine, alziamo la mano, ok, sono d'accordo, ma quello che c'era scritto dentro, nessuno ha letto. anche se era partito a luglio, e a noi ci hanno fatto vota a ottobre, a settembre, però nessuno ha letto dentro. Però ci siamo fidati, porca miseria, e mi sembra una cosa giusta, di chi ci ha presentato il librone, anche in consiglio, di qualcuno che ci ha detto, state tranquilli, e io ora mi guarderei un po', ogni tanto, sono state tranquilli, se duriamo ancora in carica, fino ai 45 giorni, prima dell'indizione dei consigli, dei comizi, me ne guarderei, perché io, c'ho qualche dubbio, su se stiamo tranquilli, perché quello ha detto, state sereni, e è sartato letta, e qui se state tranquilli, non so che ci può, tranquillo gli è successo, brutte cose, brutte proprio brutte brutte, e quindi andiamo avanti Presidente, e so due messaggi che gli arrivano, come i messaggi di Fatima, due, due, se ne faccia mente locale, cioè ne faccia tesoro, cioè due minuti ancora, ne faccia tesoro, perché Matronola, sbaglia, però ogni tanto ci azzecca, e quindi so due botte, no, non voglio di, non voglio adesso parlare, della terza botta, perché sarebbe, parli dei parcheggi, parli dei parcheggi a pagamento, parcheggi a pagamento, ma perché io ho fatto due interrogazioni, sugli attraversamenti pedonali, dove ci parcheggiano pure le macchine, da circa tre, quattro mesi, e nessuno mi viene a rispondere, per quale motivo, non si è fatta ancora la gara, per quale motivo, le buche, sono state spostate i fondi, mi sbaglio, mi dispiace, mi dispiace, su per favore, basta, su, no, allora, concludo sull'aga, vabbè, allora, c'è un minuto, un minuto solo, è vero, soglia che porta i tempi, non è Giuliano, chiedo al notaglio, consigliere Matrono, non mi chiedo più molto, va bene, però no, e riparlo con la nuora, così la socia ce l'intende, quattro mesi per rispondere a due interrogazioni, che riguardano il consigliere Matrono, che puntualmente sbaglia sempre, sbaglia a prescindere, però, non vengono, non viene in consiglia a dire, ah, Matrono, hai sbagliato, come collaga, hai sbagliato, nessuno ci viene, preferiscono, nascondere la porvere sotto al tappeto, anziché venisse a confrontare qua, che io dico, che attacca il consigliere Matrono, che so, così cattivo, io sono la persona più buona, più, che non si arrabbia mai, che il dialogo ha con tutti, che non si arrabbia mai è un po' difficile, il tempo è scaduto, il consigliere Matrono, mi dispiace, mezz'ora sono state più che sufficienti, manca un minuto, no, 15.05, sono 15.35, vabbè, vedo che è stato puntuale, grazie, io mi auguro che sono arrivati, grazie consigliere Matrono, allora, consigliere Lancia, prego, grazie presidente, per quanto riguarda la delibera dell'AGA, anzi, prima volevo dire una cosa, che purtroppo in questa città, forse anche in questo paese, partendo anche da buone intenzioni iniziali, si finisce per fare delle cose che nel corso dei decenni diventano irrisolvibili e illegittime, l'AGA, così come altre cose, io vi ricordo che il mercato di via Sannio è lì provvisoriamente dal 54, che sono 40 anni che il terreno della Savit alla fine di via Nocera Umbra è in fase di acquisizione al patrimonio comunale, e vi ricordo tutte le strade non collaudate e tutte le gare costruite non collaudate, come le opere a scomputo sopra i parcheggi, sulle quali nessuno può rimettere mano, le concessioni fatte a circoli, associazioni... Consigliere Lancia che fa come Consigliere Patronio? No, 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 scusate, scusate, per favore togliamo l'AGA, su, per cortesia, non mi rendete difficile il compito, stiamo parlando dell'AGA, per cortesia. Presidente, se lei mi sta togliendo la parola, io non parlo più e va bene, però questo... Però stiamo parlando dell'AGA? Stiamo parlando proprio dell'AGA, perché l'AGA è l'ennesima di queste cose, iniziata nel 2003 provvisoriamente per salvaguardare i posti di lavoro e continuata con affidamenti diretti fino a oggi, fino al 2013, ottobre 2013, continuano a essere diretti. Questo tipo di azioni comporta delle illegittimità e l'AGA, la delibera dell'AGA, ne aveva parecchie. La prima è che non c'era una fine all'affidamento provvisorio, la seconda è che non si sapeva quanti posti di lavoro dovesse salvaguardare con che contratti questa gente lavorava. La terza è che non avevamo nessun controllo sugli introiti dell'AGA e quindi avevamo stabilito una cifra senza sapere poi in realtà quanto l'AGA avrebbe incassato. Quindi noi non avevamo nessun tipo di controllo, per cui questa delibera dell'AGA, nata anche nel 2003 con buone intenzioni, con il tempo, come tante altre cose, si è trasformato in un labirinto inestricabile. Allora, spero che oggi si metta la parola fine agli affidamenti diretti, che anche quando si fanno non possono continuare per 15 anni, 30 anni, 40 anni, perché poi dopo, quando si vanno a mettere le cose a posto, si fa piangere la gente. È chiaro, no? Come al circolo degli artisti o altre cose. Quando poi uno vuole mettere le cose a posto, fa danno, perché gli anni che sono passati, in modo illegittimo, sono troppi. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Allora, un bel tornato da Presidente Fantino. e vedo che c'è tutta l'aggiunta, quindi questa è anche tutti i consiglieri, quindi sembra che è un consiglio di quelli di qualche tempo fa. Beh, io noto, innanzitutto, una nota di colore, perché il mio collega, insomma, che ha presentato l'intervento per mezz'ora, ha toccato un po' tutti i punti, ma la nota di colore che emerge, è che io penso che l'assessore Morgia dovrebbe essere contento di questo. L'assessore gli ha fatto uno spot elettorale di quelli alla grande. Secondo me lei è lanciato anche per una presidenza futura, perché sembra che questo municipio sia solo ad appannaggio dell'assessore Morgia. Poi però non ce l'abbiamo con lei, Presidente Fantino, lei è brava a tutto, perché è simpatico, ma Madrona, lei deve legge a fare righe, non ce l'abbiamo con lei, noi di lei abbiamo stima, però sembra che l'aggiunta è fatta da due persone, da lei e da Morgia. Però secondo me il collega Madrona non ha mai fatto uno spot di questo tipo per nessun altro assessore. Dico questo perché mi sembra al di là del tecnicismo, al di là del percorso amministrativo, che ovviamente tiene conto di alcune azioni che non sono state ben recepite nei tempi, ma mi sembra insomma un mettere il dito in un meccanismo che era evidente, cioè aprire una porta dove dietro c'era un qualcosa da mettere a norma, da portare a compimento nel miglior modo possibile. Ora, se dobbiamo pensare che per fare un atto c'è bisogno di tutto questo tempo, certo che diventa difficile a chi ci segue o a chi insomma ha interesse un pochino a capire come funzionano certi lavori, diventa difficile a credere che per fare un bando ci vogliano totti anni. Per fare una determina in comune nei dipartimenti comunali ci vogliono otto mesi. Quindi non mi sembra insomma che i tempi siano di tanto diversi da quelli dell'amministrazione centrale. Il problema è che c'era un vulnus aperto e che andava sanato. Ora, non è che qui tutti, lo ripeto perché mi piace, insomma, asciughiamo gli scogli, insomma, se per un po' di tempo è andato avanti un qualcosa che aveva diciamo l'intenzione di tutelare i posti di lavoro, bene, io sono uno di quelli che ha votato a favore di ciò non me ne pento ovviamente perché perché siamo in un paese dove è facile togliere e non ridare, dove è facile chiudere e non riaprire. E quindi se tocchiamo questo tasto a me mi trova sempre dalla parte di chi perde il lavoro. Certo che però avevamo detto che la delibera del 2013 sarebbe poi seguita ovviamente da una disposizione, un atto, un bando che contenesse appunto questo argomento e lo risolvesse una volta per tutte. Ora poi il tempo passa io non so perché non è stato così facile farlo, non so perché comunque sia le cose sono andate in questo modo, certo è che non penso che sia stato solo il collega ad avere dei forti dubbi, io mi ricordo che c'era più di qualche consigliere in quest'Aula che aveva dei dubbi ma il fine lo ricordo per chiarezza, lo ricordo per correttezza, il fine era quello di provare a difendere diciamo lo spazio occupazionale quindi il lavoro poi ovviamente non è che noi ci dobbiamo portare avanti il ragionamento amministrativo non abbiamo probabilmente né le cognizioni ma non abbiamo neanche il compito di dover seguire la parte amministrativa noi diamo indicazione politica era un atto politico io voglio dire che non ho simpatia neanche io per l'assessore Morgia dal punto di vista politico ma mi sembra così addoppiamo lo spot elettolare assessore Morgia deve fare però voglio dire forse è stato uno dei pochi atti portati in consiglio da parte della giunta per un indirizzo politico perché guardate io lo dico quello lo levi la parola prima leva no devi dire che pene dici ma non è ma lo dico perché qui dentro dentro quest'aula di politica ce n'è poca io lo voglio dire che ce n'è poca c'è qualche sprazzo da parte qualche consigliere che intanto si ricorda che c'è la politica la politica è sintesi politica è portare a risolvere un problema la questione politica era stata affrontata c'è stato un rispetto c'è stato un rispetto dei ruoli la giunta il consiglio la commissione poi che dal punto di vista amministrativo la cosa non teneva e che doveva essere regolamentata perché ci facciamo il segno della croce su questa roba ma dentro questo municipio non è che esiste solo il problema dell'aga dal punto di vista amministrativo perché quando prima diceva che non hanno preso gli affidamenti non hanno preso neanche le ordinanze chi di dovere non ha preso neanche le ordinanze effettuate nei mesi e negli anni precedenti perché via Polia non è che è una cosa che è tanto diversa dall'aga chiaro? però ve ne scordate ce ne scordiamo tutti per lo meno il senso politico di un atto portato e discusso politicamente rimane questo era diciamo il concetto che ha permesso di fare il nostro ruolo perché noi votiamo quello che passano anche per gli uffici quindi c'è un controllo amministrativo però ovviamente la politica per qualcuno è un'altra cosa ma meglio così meglio così perché giustamente non tutti possiamo fare tutto io mi sarei mi sarei comunque stranito nel concetto di cosa viene portato in consiglio o quale o quale delle dire o quali argomenti non vengono portati in consiglio o vengono messi da parte però abbiamo messo riflettori su questo va bene è una battaglia che ha fatto ripeto non solo il collega ma comunque in cuor nostro un po' tutti perché poi quando siamo stati in commissione ho sentito diversi colleghi che dicevano no no leviamo tutto perché tutto sbagli azzeriamo azzeriamo certo ora se poi dobbiamo creare il problema tra ciao un minuto consiglio giusto grazie sì perché poi non mi dà soddisfazione bravo bravo presidente non mi dà soddisfazione parlare sta roba però alla fine cioè io utilizzo questi minuti questi interventi per entrare un po' per parlare un po' di politica non di numeri o di passaggi amministrativi quello che a me si dà soddisfazione è provare a dare un concetto politico poi se dobbiamo creare la spaccatura fra l'interno della giunta come ha detto il collega non è questo lato non è questo lato per mettere in difficoltà una giunta che spesso e volentieri dall'altra parte ci è stato detto che è slegata col consiglio non è questo lato è un bando allora se siete fatto il bando si sono fatti tutti i bandi siamo riusciti a farli con l'assessore allo sport abbiamo fatto due bandi in due ore cioè quindi a volte si possono fare no? addirittura l'assessore è stato capace di rifare il secondo bando prima di venire cioè l'ha fatto prima di venire in commissione cioè perché comunque gli uffici se vogliono vanno avanti cioè non tengono conto delle nostre indicazioni allora non è un problema solo di giunta è un problema di amministrazione di giunta di consiglio che non sono legati e io se fossi al posto di chi di dovere avrei fatto lo stesso perché non c'è una maggioranza che è stata in grado di comunque controllare o confrontare e dare certi certi meccanismi con l'aiuto poi anche dell'opposizione perché l'opposizione fa l'opposizione non la fa la maggioranza l'opposizione cioè bisogna che comunque gli argomenti vengono posti a chi di dovere si fa una battaglia si fa un confronto si fa sintesi politica e poi la maggioranza che non è d'accordo dice sì effettivamente dall'altra parte stanno dicendo una cosa giusta consiglio Giuliano mi dispiace grazie finisco concludo 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 va bene concludo dicendo che adesso saremo tutti d'accordo a fare questa operazione no? a sanare un qualcosa che è rimasto risolto volevo ricordare e ripeto solo che nella difficoltà amministrativa questo consiglio si era espresso per tenere i posti di lavoro dopodiché qualcosa è mancato e quindi i tempi poi danno ragione a quello che è è passato un anno due anni andava fatto un bando e il bando andava fatto non per perché l'agocchi per loro andava fatto perché è previsto però vi ricordo che i bandi sono previsti per tutto non solo per alcune cose e altre no grazie altri interventi consigliera vinci grazie grazie presidente buonasera a tutti buonasera presidente e assessori ma io non ho moltissimo da aggiungere sulla parte tecnica probabilmente l'errore che abbiamo fatto nel 2013 è stato non aver inserito una data quindi eravamo appena entrati in consigliatura forse sarebbe stato corretto mettere una data nel quale avremmo poi dovuto andare a bando e quindi questa è una cosa corretta vorrei solamente dire però un po' diciamo in contraddizione con quello che diceva il consigliere Giuliano è che sicuramente qui la politica ne è mancata diciamo di politici perché non abbiamo saputo far rispettare i nostri ruoli purtroppo questo municipio è funzionato al contrario perché il consiglio dove ci sono tutti i consiglieri e dove ci sono tutte le forze politiche è importantissimo perché i consiglieri sono i primi che vivono sul territorio che doveva dare un indirizzo all'aggiunta e l'aggiunta avrebbe dovuto poi diciamo tradurre in atti noi non siamo degli amministratori e non ci viene richiesto perché altrimenti quando uno si candida gli farebbero fare un corso per diventare come un dipendente comunale noi siamo di indirizzo noi troviamo sul territorio le problematiche ognuno nella sua caratteristica e quindi porta in commissione o nei luoghi i problemi che cerca di risolvere per il proprio territorio che vive giornalmente quindi con tutte le problematiche che ci sono qui questo non è successo ho lamentato prima il problema degli uffici tecnici che non ci danno il supporto è una cosa molto molto preoccupante questa perché vuol dire che se un politico porta un indirizzo dove non c'è il supporto degli uffici e quindi non si sa neanche se quello che sta proponendo è una cosa che può essere fatta e spesso ci troviamo a portare degli atti in consiglio dove non abbiamo avuto nessun supporto nessuna tutela per poi far che? Niente e questo si è visto sul territorio però sono una persona anche che si prende la responsabilità che non dico che la colpa è sempre degli altri quindi dico a Giuliano che la colpa è stata anche la nostra perché non abbiamo avuto il coraggio di riprenderci il nostro ruolo come abbiamo fatto le battaglie nei capigruppo dove poi alla fine tanto ma che ti frega va bene così no non va bene così perché se c'è un problema se le segretarie non sono abbastanza dobbiamo cercare di far sì che anche loro possano lavorare in maniera corretta questo è l'unica cosa che penso che non abbiamo avuto la forza di fare oggi logicamente ci troviamo con quest'atto quindi sono convintissima di poterlo portare a termine perché sono per la trasparenza perché sono per i bandi quindi non ho niente contro l'aga spero che possa partecipare come gli altri e può anche di vincere il bando non c'è nessun problema però è ora di dare la vera discontinuità e soprattutto spero che anche al comune si prendano le loro responsabilità senza puntare il dito sempre su una persona sola grazie consigliera ritrotti prego grazie presidente presidente fantino assessori colleghi consiglieri l'atto che questo consiglio si si trova oggi a discutere e a dover approvare sicuramente un segnale chiaro e di inversione rispetto a quanto era avvenuto due anni fa era l'ottobre se non sbaglio del 2013 da poco insediati ma diciamo quello non è un fatto rilevante eravamo consiglieri quindi in carica e quello che abbiamo fatto era sostanzialmente è stato sostanzialmente un affidamento diretto è ovvio che la situazione che ci è capitata nei mesi scorsi però ci ha aperto un po' gli occhi perché evidentemente una pratica sì e devo dire riprendendo quella delibera c'è una ricostruzione molto efficace è vero che si inizia dal 2003 ma si percorrono tutti gli anni dal 2005 come le varie proroghe nei diversi anni attraverso delle risoluzioni o delle delibere di giunta hanno continuato ad assegnare alla società i parcheggi che oggi discutiamo insomma le aree che oggi stiamo discutendo a me ha colpito molto una cosa citata nella stessa delibera che abbiamo votato qualche sempre del 2013 è la mozione numero 11 del 27 marzo del 2013 dell'assemblea capitolina fatta con un ex articolo 58 una cosa urgentissima immagino e quella mozione mi chiarisce un altro pezzo di questa vicenda una mozione molto trasversale devo dire dal punto di vista politico però diciamo in realtà dispone le proroghe a tutte le aree per tutti i municipi dà delle indicazioni chiare anche sulla tariffazione e quindi sostanzialmente invita tutti i municipi che hanno già esperienze di questo tipo ad osservare e chiede agli uffici di essere diciamo così gli esecutori questo avveniva il 27 marzo del 2013 cioè a un passo dalle elezioni allora governava Le Manno eppure c'era la fretta di portare all'attenzione di tutti i municipi una situazione di questo tipo sono andata quindi avanti quando abbiamo votato questa benedetta delibera è vero sì c'era la situazione dei lavoratori però io mi ricordo che chiesi lo specifico cioè perché dobbiamo usare queste queste soste perché io non capisco ma perché se no lì ci vengono gli abusivi e quindi noi faremo un bando e quindi riusciremo a sanare una situazione che resta il fatto è che dall'ottobre 2013 il bando non si è mai visto e quindi io non dico che è stato un inganno per questo consiglio perché poi qualcuno dice è mancata la politica è mancato ma secondo me è stato il doppio l'inganno primo perché questo consiglio ha votato un atto sapendo che c'era un atto conseguente da fare seconda cosa questo consiglio è stato esonerato dalla sua funzione che era quello di revocare in qualsiasi momento se non per pubblico interesse specificato nella delibera così come con il contratto e quindi vuol dire che noi o facciamo il bando oppure come era venuto in mente a qualcuno di noi forse le lungaggini fatte e i vari percorsi avuti in commissione immagino noi non possiamo andare ad una revoca secca cioè questa amministrazione se si vuole riprendere queste benedette aree e chiedere all'amministrazione capitolina di farci quello che ci vuole fare o le vuole mettere a disposizione per fare altro non lo può fare non lo può fare allora come siamo arrivati a tutto questo? siamo arrivati a metterci le pezze a colori oggi ma io sono contenta perché alla fine ci dobbiamo mettere la faccia noi ho letto che il consigliere Cofano c'è la sua firma sulla delibera insomma quindi il consiglio si prende piena responsabilità di quello che sta facendo e mi chiedo però mi chiedo però se la situazione è questa e non voglio dire che insomma nasce tutto per caso perché le nostre responsabilità le sappiamo le conosciamo ce le siamo prese le abbiamo riconosciute e infatti stiamo qui proprio a chiedere una cosa diversa da quella che abbiamo fatto si può anche sbagliare certo e si può anche sbagliare e si può anche tornare indietro dopodiché questi sono problemi di carattere amministrativo le responsabilità politiche del perché si è arrivati fino a qui e del perché oggi per fortuna abbiamo trovato una via d'uscita forse sono ancora ad accertare io non credo io questo non lo credo penso che a tutti è chiaro però o siamo conseguenti oppure il rischio è che noi ci troveremo per l'ennesima volta a portare avanti l'ennesimo atto con le solite fatiche e con mille giri che vanno da commissione giunte chi si arrabbia i consiglieri che si sentono violentati addirittura cose dell'altro mondo dopodiché però resta il problema in sé che se non si vuole vedere o siamo miopi oppure ogni volta forse quella fiducia in più che ci mettiamo nel fare le cose deve venire meno deve venire meno allora benvenga la revoca di oggi dopodiché secondo me non basta perché lo ripeto è una pezza a colori e siccome noi non siamo chiamati a mettere le pezze a colori ma siamo chiamati a delle responsabilità altre e diverse anche di carattere politico forse non è questa la sede forse non sono neanche questi i modi però mi auguro che prima o poi questa roba venga capita non solo per noi che siamo gli addetti ai lavori e che oggi stiamo qui a mettere appunto un punto ad una situazione ma si capisca anche fuori grazie grazie consigliere Vitrotti altri interventi consigliere Coglia prego sì sì ma io il dono della sintesi non aspiro a parlare per 30 minuti spero di poter finire in un minuto poche cose però magari dette concise e circoncise dette nel modo giusto e rispettoso degli altri per noi i bandi vanno fatti sempre o quasi sempre se parliamo di piccole cose da fare immediatamente come prevede la normativa e le leggi si possono fare in affidamento se parliamo di altre cose siamo sempre favoribili ai bandi i posti di lavoro ricordava il consigliere Giuliano i posti di lavoro sono di tutti non devono essere un alibi i posti di lavoro possono essere della ditta che attualmente gestisce o della nuova ditta che andrà a gestire sono sempre posti di lavoro e il creare e questo ci sono tante leggi che tutelano la concorrenza il libero mercato ed i posti di lavoro speriamo laddove stagna l'assegnazione come la mafia di Laga quindi non è un gioco di parole quindi non possiamo che essere favorevoli alla revoca anche se parziale approfondiremo poi se può essere allargata ma si può fare un atto conseguenziale successivo un dubbio giunta e consiglio si è detto l'aggiunta mi spiace dirlo e ribadirlo ha fatto uso del consiglio e dei consiglieri per tutta la consigliatura è un vizio di forma se vogliamo delle regole dei regolamenti che abbiamo perché la Presidente è il capo gerarchico della maggioranza e con una maggioranza così ampia può fare quello che vuole e ha fatto quello che voleva mi chiedo e chiedo a tutti perché in questo caso siamo a parlarne qui e la revoca non è venuta dall'aggiunta forse perché è una faccenda spinosa forse perché c'era bisogno di più risonanza c'era bisogno di condividerla a noi sta bene condividere responsabilità su questa cosa però avremmo voluto condividere responsabilità e decisioni anche su tantissime altre cose ugualmente importanti faccio un esempio i bandi per i centri sportivi municipali io mi auguro che il bando che verrà fatto qualora questa revoca venga passi diciamo sia migliore di quello dei centri sportivi municipali ma non sto criticando perché si può sbagliare in buona fede allora facciamo tesoro di quello che è stato fatto perché i criteri anche sono importanti e devono creare una situazione sì di libero mercato ma di accesso alla risorsa che sia imparziale per quanto più possibile allora ribadisco voteremo favorevoli a questo atto però mi sento di dire alla presidente mi spiace che questi due anni lei abbia sfruttato così poco il consiglio dei suoi consiglieri grazie consigliere tuttino prego dopo il consigliere tuttino non c'è nessun'altra richiesta di intervento se non l'assessore e la presidente bene quindi dopo il consigliere tuttino chiudo gli interventi dei consiglieri grazie grazie presidente e presidente fantino assessori molto semplicemente il consiglio ha fatto un errore il consiglio sta sanando un errore dico queste parole perché mi è stato insegnato il che non vuol dire che io l'abbia appreso ma comunque mi è stato insegnato ad assumermi le responsabilità degli errori spero che questo diciamo questo tipo di insegnamento tenda a diffondersi in questi in particolare negli ultimi mesi da giugno in poi abbiamo chiesto ripetutamente che questo tema fosse calendarizzato sappiamo di essere stati un po' soli in questa cosa senza polemica senza nomi e senza cognomi siamo arrivati in aula ne siamo lieti perché riteniamo che sia molto prezioso questo momento ma non sento di affiancarmi a chi dà la colpa ad altri organismi altri organi dell'istituzione per il semplice fatto che ad esempio già a livello di procedimento questo è importante lo dico anche al consigliere Coia con cui molto spesso ci troviamo concordi su molte cose però la giunta non può revocare una delibera del consiglio quindi bisogna che ciascun livello si assuma le sue responsabilità ciascuno si deve assumere le sue responsabilità lo stiamo facendo oggi e c'è qualche perplessità da parte mia l'avevo l'avevo espresso anche nell'ambito della maggioranza su alcuni elementi della delibera perché ritenevo ritengo che andassero rimesse a bando le aree nella loro interezza a parte quelle che per ragioni normative non possono più essere messe a bando perché effettivamente il timore che quelle aree vengano fatte oggetto dell'assalto degli abusivi insomma quello che accade a Capannella in alcuni momenti ce lo insegna di cosa può significare sia a livello di rendita finanziaria dell'esercizio abusivo del parcheggio sia a livello di ordine pubblico quindi ritenevo che tutte le aree che potevano essere rimesse a bando dovessero essere rimesse a bando ho concordato con il resto della maggioranza di non tentare di emendare il testo su questo però è un aspetto che volevo mettere in rilievo perché comunque ancora non comprendo a tutt'oggi perché alcune aree non sono state rimesse a bando ancora non lo comprendo e temo che i cittadini spero di no per loro temo che si ritroveranno nelle aree non gestite si ritroveranno ad avere a che fare con l'estorsione per quanto riguarda appunto di fatto la sosta sarà tariffata dagli abusivi in particolare penso a via giudice al sottopasso di via toscolana insomma le aree prospicenti al termine alla nagnina temo che lì diventerà terra non di nessuno ma terra di qualcuno qualcuno abbastanza anche terra di cognomi noti ecco e per il resto le nostre osservazioni anche come lista civica si sono appuntate su alcuni aspetti della delibera che invece abbiamo riportato nell'ordine del giorno lo argomenteremo più avanti ne faccio scenno dicendo che richiediamo e richiederemo che vi sia un incremento significativo di quanto entra al municipio e che vi sia che il municipio si doti di strumenti per comprendere quanto rende la sosta tariffata perché attualmente l'amministrazione questo non lo sa questo non dipende da questa amministrazione è stato ricordato da diversi consiglieri che questa situazione sull'aga o sulla sosta tariffata dura da 12 anni quindi anche diciamo è stata estremamente accettata e assecondata anche da chi poi anche giustamente ha detto ma non si può fare però non è che se ne è accorto 12 anni fa se ne è accorto oggi questo vale anche per il consigliere che ha parlato per primo quindi il nostro voto chiaramente su questo sarà positivo anticipo in questo senso anche in parte la dichiarazione di voto ma questo non spetterà a me spetterà ad altri e cercheremo di indirizzare un pochino questa delibera con l'ordine del giorno grazie grazie allora abbiamo chiuso interventi ti prego l'assessore morge di intervenire poi c'è la presidente signor presidente del municipio consiglieri allora diciamo il dibattito di oggi con i punti e la nascita anche e le scelte che attengono nella nostra città alla sosta tariffata vedete molti di voi hanno colto il segno di quella che è diciamo la vicenda della sosta tariffata non parcometrata nel 1996 nella nostra città la sta custodiva ed aveva tra i compiti di istituto quello della vigilanza sulla sosta con l'introduzione del PGTU del 1999 questi no no questo succede prima questa io faccio l'escursus da un punto di vista normativo con il PGTU si prevedeva che la sosta tariffata potesse essere realizzata soltanto fuori nell'extra grano nel 2002 a delibera del 73 ha previsto che questo poteva avvenire la sosta tariffata anche dentro il raccordo anulare perché questo perché nel frattempo i lavoratori che nel TURPS 121 articolo 121 il decreto legislativo DPR 311 aveva cancellato quel tipo di attività e la nostra città tant'è che qualcuno tra i consiglieri ricordava che gli atti in consiglio comunale su questa vicenda erano sempre trasversali dall'istituzione diciamo di questo tipo di servizio perché il servizio di sosta tariffata diciamo è l'elemento che bisogna cogliere in questa in questa vicenda centinaia di persone si trovavano senza senza lavoro essendo eliminata l'attività di guardia macchine guardate si può essere diciamo e avere tutte le idee legittimamente ma l'individuazione che si ha di questo tipo di aree far capire del perché si era individuato questo tipo di servizio perché le aree interessate ancorché quelle individuate ancor prima insomma l'avete detto voi nel 2002 2003 fino adesso sono aree che rientrano nelle caratteristiche della sosta tariffata cioè le aree che non sono interessate direttamente dalla sosta dei residenti e mi pare che le aree diciamo di cui abbiamo il discorso hanno questa caratteristica e devono essere ubicate in prossimità di forti attrattori di traffico la sosta tariffata nell'Eccas decimo municipio che non è interessato dalla sosta parcometrata che come sappiamo tutti nel nostro municipio si arresta circa all'altezza di Cogli Albani Arco di Travertino ancora prima si beh pure Cogli Albani però lì hanno tolto ma ce la rimettano con il nuovo progettivo che cosa succede succede che nell'ex decimo municipio con l'apertura io faccio una breve storia ma con l'apertura e l'incremento diciamo delle attività all'interno del centro commerciale Cinecittà 2 nello square centrale di Viale Parmiro degli Atti si creavano nel tempo anche in contrasto con i dipendenti del municipio che spesso usavano quel tipo di parcheggio per la sosta delle proprie autovetture un'attività di taglieggiamento parliamoci chiaro abusiva e questo elemento è stato uno degli elementi insieme alla salvaguardia di quei vecchi lavoratori che erano rimasti senza lavoro per cui il municipio individuò quella come la prima area da poter utilizzare per la sosta a tariffa per il servizio di sosta a tariffa ora si può essere ripeto d'accordo o meno però due elementi voglio chiarire uno l'elemento delle delibere portate in consiglio qualcuno ricordava il luogo delle delibere di giunta o delle determinazioni dirigenziali direttamente come dire fatte dai dirigenti io credo che sia un atto di trasparenza di consapevolezza rispetto a una situazione che ha delle caratteristiche che possono avere delle problematicità così come quella del lago oggettivamente ce l'ha la secondo elemento perché è importante la sosta 015 che non è mai mutata e che rientrava nelle range di cui le delibere pure comunali prevedevano si è mantenuta almeno questa è la mia memoria e quello che io nell'attività di consigliere o di assessore ricordo perché neanche la tariffa è mai aumentata voi sapete bene perché poi avete avuto pontezza anche al di là dell'opinione della votazione in consiglio della tariffa che la tariffa è un'ora e mezzo massimo due per l'intera giornata noi sappiamo che nella nostra città in alcune zone già ora è un euro e venti all'ora e sicuramente con l'attuazione del nuovo PGTU perché è uscito pure sui giornali il comune rispetto al ricorso d'ortare si è opposto e quindi aumenterà questa tariffa un'ora e cinquanta l'ora non l'intera giornata nella sosta parcometrata per cui diventava pure un elemento di gestione del servizio diciamo poca entrata ma pure a basso costo per i cittadini e questa è la scelta che si è perpetrata nel tempo io rispetto alla delibera ritengo che le valutazioni del consiglio così come personalmente ho sempre ritenuto fosse l'organo di indirizzo a cui attenersi ne prendo alto poi se ci sono elementi che come qualcuno ha rimarcato sicuramente che hanno nel tempo ritardato l'attività amministrativa non si può nocare che dalla delibera del 13 agosto è stata emanata del 13 ottobre 2013 è stata emanata gli atti il capitolato di affidamento e la delibera a fine novembre inizio dicembre da quel momento si poteva e si doveva da un punto di vista amministrativo procedere al bando il bando che con puntualità questa delibera vede nei 90 giorni prevede nei 90 giorni dovrà essere un elemento di discussione che sicuramente si affronterà nella commissione competente per resto non so cosa aggiungere rispetto alle discussioni di questo atto ribadisco che il passaggio in consiglio è un elemento di trasparenza è un elemento di come dire rispetto a come la procedura dell'aga nei 12-13 anni che si è sviluppata sicuramente come dire più aperta del fatto degli affidamenti in determinazioni dirigenziali oppure di determinazioni della parte della giunta è logico che è una decisione del consiglio non so chi poneva questa questione da un punto di vista politico e amministrativo una decisione di consiglio la revoca o la modifica alla deliberazione di consigliare deve essere fatta con un'altra deliberazione consigliare per cui rispetto a questo a questo motivo io credo che i consiglieri la commissione il presidente del consiglio la commissione ha fatto diciamo bene a sviluppare un ragionamento che porta alla votazione in consiglio grazie grazie assessore prego presidente fantino saluto i consiglieri il presidente del consiglio e gli assessori vorrei un attimo intervenire per chiarirmi e chiarirci spero a tutti quello che probabilmente dai vari interventi si capisce che fa parte diciamo del problema che ci troviamo ad affrontare io credo che lo diceva poco fa l'assessore Morgia risalendo a quale sono state le motivazioni che portarono all'inizio del 2003 da parte del consiglio comunale a trattare il problema dei lavoratori o dei parcheggiatori o comunque di quei parcheggiatori abusivi che in quegli anni là erano diventate effettivamente una diciamo un problema per la città compreso il fatto dei parcheggiatori insomma che erano stati autorizzati dunque diciamo che un problema al quale si cercò allora di porre in qualche modo rimedio attraverso la strada dell'organizzare dell'ordinare un'attività che viceversa poteva diventare una forma insomma di pressione in debita una forma di diciamo condizionamento del cittadino poi ha successivamente anche negli strumenti che sono stati immaginati ed utilizzati creato successivi questioni successivi confusioni allora io credo che un discorso che ci deve a tutti interessare è quello di dare lavoro di garantire lavoro di andare incontro ai bisogni lavorativi dei cittadini qualsiasi categoria rappresentino altro discorso è usare gli strumenti adeguati per garantire ciò e vi do un esempio un tema che ha visto interessato tutto il nostro comune di Roma il salario accessorio è stato è stata diciamo così negli anni il tentativo di andare incontro a una questione più importante che il contratto nazionale di lavoro non era stato riattualizzato e per andare incontro alle necessità dei nostri dipendenti si trovò chiamiamolo così un escamotage che oggi o successivamente nel riordino di tutta una serie di normative che riguardano proprio i salari ci vedono nella necessità assolutamente direi anche inaccettabile di o creare situazioni in cui si immagina la riorganizzazione dell'amministrazione in funzione della giustificazione di quel salario accessorio o viceversa il rischio di tagliare una giusta indennità che il lavoratore deve ricevere allora questo esempio lo do per dire che se c'è una finalità che giustifica anche la necessità di trovare una soluzione spesso si fanno una serie di si adoperano una serie di scorciatoie che poi con l'andare del tempo si sovrappongono e ci creano e ci portano a una serie di ulteriori e successivi problemi allora io credo che all'inizio della consigliatura nel mio ex municipio nono noi non avevamo questa necessità sia perché era tutto fatto a tarifazione cioè a strisce blu parcometrate e sia perché essendo anche un territorio più piccolo non aveva queste situazioni come si verificavano qui alla Nannina però quando sono arrivata è verificato che questa assegnazione diretta già datava dal 2003 e con una serie di successive diciamo modifiche sia delle aree e anche di come si dice prosecuzione dell'affidamento questo portò anche il consiglio probabilmente a immaginare che la proroga in attesa del bando fosse la strada unica da perseguire e rammento a tutti che le prorroghe che erano state date alcune sono state fatte sia in quanto aria sia in quanto a proroga effettiva dalla giunta o dal consiglio a secondo l'anno che si trascorreva allora evidentemente anche lì la finalità corretta e giusta portò via via una serie di diciamo strumenti e scorciatoie che probabilmente non mettevano né in luce né in chiaro quello che poi sarebbe successo allora io credo che la necessità di dividere un successivo diciamo step che è quello del verificare perché noi abbiamo l'obbligo e il diritto di verificare la funzionalità della destinazione di un'area a un'attività per esempio di parcheggio a pagamento in un nodo molto importante per il municipio perché è un nodo che ha la stazione Anagnina che assorbe flussi di persone che arrivano anche dai paesi europei attraverso i vari pulban che vi parcheggiano assorbe un flusso pendolare piuttosto significativo perché c'è la stazione la metropolitana e tra l'altro ha una sua vita di carattere commerciale per le soste e le rotazioni che ci sono e dunque è un nodo che merita un'attenzione particolare probabilmente un aggiornamento questo aggiornamento di questo nodo noi l'abbiamo chiesto a più riprese ai vari assessori competenti perché credevo credo tuttora che vada attenzionato sia nella destinazione di alcuni spazi per esempio quelli sottostanti la metro alcuni locali sono assolutamente chiusi e abbandonati dunque per ridare vita per ridare anche una sorta non solo di maggiore sicurezza ma anche insomma un rilancio di un'area che è piuttosto molto utilizzata ma altrettanto abbandonata come ad esempio l'area di superficie immaginarla non solo riordinata ma anche più riqualificata e di maggiore sicurezza e migliore gestione allora questo l'abbiamo rappresentato in varie occasioni e ci attendevamo delle risposte e ipotizzavo anche un aiuto per poter immaginare chissà beneficiati dal giubileo di avere qualche risorsa che ci permettesse di rivisitare complessivamente tutta l'area e dunque poter poi destinare spazi e luoghi non necessariamente alla tarifazione a pagamento non necessariamente con una modalità di gestione come questa che abbiamo oggi ma purtroppo per tutta una serie di ragioni non ultima quella che tutti voi conoscete le cose si sono come si dice lasciate stare in alcuni momenti e oggi evidentemente la situazione purtroppo ci porta a un fermo insomma a un blocco di questa ipotesi su cui noi stavamo lavorando allora io credo e lo dico anche per chiarircelo tutti è importante credo che sia nostra responsabilità di amministratori io sento spesso sbagliando fare di tutta l'erba un fascio sento spesso in televisione che si parla dei nostri dirigenti dipendenti del nostro personale come incapace di svolgere il proprio lavoro qualcuno sostiene che non sanno nemmeno fare i bandi al comune di Roma beh io questo non solo non lo penso ma credo che si siano diciamo in qualche modo sovrapposte una serie di problemi che vanno da atti di corruzione ad atti diciamo così più legati a vere e proprie attività criminali con una macchina amministrativa che necessita dopo tanti anni non solo di recuperare la propria capacità di azione attraverso una formazione interna attraverso una riorganizzazione interna vera ma soprattutto di avere una capacità come municipi di poter intervenire di poter essere come si dice determinanti nell'affrontare le problematiche che noi più di chiunque altro siamo in grado in grado di conoscere questo perché lo dico perché oggi noi di fronte al tema dell'aria che è incustodita in qualche modo ed è questa una verità ma è tutta l'aria lì abbastanza incustodita il tema della nanina io l'ho posto al tavolo sull'ordine della sicurezza abbiamo fatto alcuni passi avanti con l'assessore De Simone per quanto riguardava l'aria che comprende la rotazione però sono dei piccoli tasselli che andrebbero coordinati e gestiti da un'unica regia con delle risorse anche un po' adeguate in modo tale che noi oggi ci potremo trovare a ragionare sul parcheggio a pagamento se veramente è una necessità insieme non tanto a un problema di usare il parcheggio a pagamento per evitare delle male pratiche che possano condizionare il cittadino che va lì a parcheggiare ma piuttosto un parcheggio a pagamento mirato alla semplice gestione di un'aria che vede diciamo l'ingresso di parecchia gente durante l'arco della giornata sia per ragioni lavorativi che per ragioni diciamo così di sosta e basta allora tornando al merito della questione io credo che dal 2003 partendo da un obiettivo e una finalità assolutamente comprensibile e giustificabile gli strumenti che sono stati utilizzati via via per affrontare questa questione non solo non sono stati probabilmente adeguati ma hanno prodotto una serie di successivi errori l'errore di questo inizio di consigliatura perché pure allora ce lo ponemmo io me lo posi il problema di dire chiudiamo la faccenda sembrava come poco fa credo che lo citasse la consigliera Vitrotti una sorta di impedimento visto che c'era un pregresso di diciamo di assegnazioni anche se non attraverso bando non diciamo con scadenza non definita e con modalità altrettanto non definite allora io penso che lo studio della utilità in quel quadrante di un parcheggio a pagamento deve essere fatto in sé cioè è necessario il parcheggio a pagamento non è sufficiente il parcheggio di scambio che già esiste e dobbiamo come noi tra l'altro abbiamo fatto senza ricevere ancora una risposta possiamo integrarlo alla gestione che già oggi fa l'unico parcheggio diciamo che esiste formale diciamo gestito dall'altra se tutto ciò avrà una risposta noi siamo in grado di collocare questo nostro bando all'interno di una funzione fra le tante che un nodo così importante deve avere e dovrà avere viceversa stiamo oggi mettendo come si dice un pagliativo a una situazione che è ben più grossa ben più complessa e necessita assolutamente da parte di questo consiglio di questo municipio tutta l'attenzione da sottoporre al Campidoglio affinché chi ne ha la risorsa i poteri possa venirci incontro e capire che la Nanina non è solo un nodo importante per il settimo municipio ma è un nodo fondamentale strategico per la città di Roma e non può essere trattata come se fosse una fermata di un autobus con tutto il rispetto nell'estrema periferia allora per questa ragione noi oggi ci troviamo ad aggrovigliarci intorno al parcheggio alle modalità che sicuramente il bando garantisce però ripeto non è solo questo il problema il problema è ben più grosso ben più ampio e ben più serio perché io ho detto pochi giorni fa non ho letto non ci è non ci è pervenuto nessuno ci ha chiamato ma sicuramente durante il giubileo questo sarà un nodo utilizzato e sicuramente molto frequentato e per ora non siamo a conoscenza né di investimenti né di interventi che prevedano questo riordino che io mi auguravo che invece con il giubileo potesse far parte vabbè per cui vabbè insomma questo poi volevo dire che siccome è stato presentato un ordine del giorno da Davide Tutino di lista civica in cui si chiede la revoca della deliberazione del consiglio del municipio 7 cioè far riferimento alla revoca e dice vista la proposta d'iniziativa della quinta commissione consigliare permanente eccetera eccetera chiede che il consiglio del municipio Roma 7 impegni la presidente e la giunta a porre in essere delle condizioni affinché all'interno del bando per l'assegnazione di aria tarifazione non parcometrata si preveda un incremento significativo della quota dovuta al municipio da parte del gestore assegnatario e sia previsto l'inserimento di uno strumento oggettivo di valutazione dei reali introiti derivanti dalla sosta tarifata introiti attualmente ignoti all'amministrazione allora io propongo e faccio proprio come giunta questo ordine del giorno chiarendo che ciò che noi affronteremo sarà sempre con gli strumenti che ha il municipio che verrà diciamo comunque inoltrato ancora una volta agli uffici competenti capitolini in modo che se loro possono facilitarci dati e documenti che noi non abbiamo serviranno sicuramente agli uffici nostri per valutare i termini della tarifazione e anche le modalità di assegnazione se siete d'accordo se i firmatari dell'ordine del giorno sono d'accordo vabbè altrimenti procediamo con la discussione e votazione prego prima firmatari chiedertudino prego siamo d'accordo presidente ringraziamo la presidente e la giunta della disponibilità ad accogliere l'emendamento che ci sembra vada nella direzione di una chiarificazione della situazione e di una chiarezza per l'amministrazione di quelli che sono gli introiti quindi ringraziamo la presidente e la giunta allora passiamo adesso alla dichiarazione di voto sull'atto sulla delibera ci sono dichiarazioni di voto consigliere Coglia prego faccio presente la notte che la scudatrice è uscita viene sostituita dal consigliere Carloni prego consigliere Coglia dichiarazione di voto sull'atto nell'ibadire diciamo che ci eravamo astenuti nella precedente votazione ottobre 2013 per perplessità perché non siamo veggenti insomma perché era un atto un pochino particolare e ribadisco che invece siamo favorevoli alla revoca però volevo dire che in merito al discorso che ha fatto la presidente e anche l'assessore Morgia questa assegnazione fatta a ottobre 2013 era definita temporanea quindi a mio avviso non necessitava sicuramente è meglio se ci sarà un atto di consiglio che avalli la revoca ma comunque già definita un'assegnazione temporanea poteva tranquillamente essere revocata anche senza il parere del consiglio che aveva già definito come temporanea e come atto eccezionale che doveva durare poco nel tempo e solo per riguardo a un'immediatezza dei posti di lavoro che sarebbero venuti meno per la partituale ditta sul discorso dei bandi io capisco l'abilità della presidente a volte rivolgere l'abilità politica è nota a tutti nel cambiare i discorsi il discorso che ho fatto io non era che l'amministrazione non è in grado di fare i bandi lungi da me io sono l'ultimo sono l'ultimo degli arrivati quindi riconosco la capacità dell'amministrazione comunale e municipale negli uffici caso mai mi ci metto dentro anche io nella definizione dei criteri che quindi sono usciti dalle commissioni che col senno di poi perché non è facile possono essere migliorabili e migliorati perché sicuramente dobbiamo più stare attenti quando facciamo uscire anche i criteri agli eventuali effetti che si possono generare mi riferisco sempre al discorso dei centri sportivi municipali senza rubare troppo tempo perché col senno di poi si sono generate alcune problematiche che potevano essere evitate cercheremo di fare meglio la prossima volta è stato citato il discorso dei costi ho visto che è stato risolto internamente con il discorso delle tariffazioni e l'aveva segnalato giustamente l'assessore Morgia che sicuramente queste tariffe che vengono pagate oggi sono irrisorie con l'elevazione di queste tariffe si potrebbe sicuramente generare un maggiore introito per il municipio e il municipio ne ha sicuramente bisogno riferimento al giubileo della Presidente insomma magari si potessero fare tante cose con il giubileo certo che se noi creiamo la sete e poi il giubileo lo gestiamo in 30 giorni poi si può fare ben poco e si può soprattutto noi influire ben poco nelle scelte visto che è stato fatto tutto a gamba tesa come per altre mose expo e altri diciamo spazi dove poi ci si infila qualcuno ben noto per atti giudiziari grazie altra dichiarazione di voto consigliera Lenci gruppo misto prego grazie presidente perfetto allora io ringrazio molto sia la presidente che l'assessore per tutto l'escursus tecnico che forse sarebbe stato più adeguato nel 2013 comunque vado avanti ma il problema non è il fatto di come era nato e perché si è stato mantenuto nel tempo il fatto è che noi siamo qui per dire che quel metodo lì non ci va più bene vogliamo un bando punto e basta non credo molto neanche per quanto riguarda che questo documento sia passato in consiglio come una forma di rispetto perché ci sono state calate in testa talmente tante cose che le sapevano più i cittadini che noi mi è sembrato più una ripartizione di responsabilità quindi esprimo un voto favorevole spero che da oggi in poi se ci sarà tempo visto le ultime notizie si vorrà cambiare passo consigliere Matrono prego dichiarazione di voto allora come al solito c'è la cattiva informazione però credo che sia proprio di costume perché ho sentito sulle dichiarazioni di come di come è nato il problema ACA la SDA quando è stata messa in liquidazione quando è chiuso i dipendenti della SDA sono stati inseriti in un elenco dove l'ACA o chi per lui i guardiamacchini privati dovevano attingere là dentro in quell'elenco in quelli che c'erano perché prima devi esaurire poi dopo i prendi e qui invece no non succedeva così e nessuno se n'è accorto nessuno tutti i zitti nessuno se n'è accorto perché minimo 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 chi lavorava là dentro che era stato preso dall'elenco doveva avere almeno 45 anni 50 48 ma non 20 e 20 ha appartorito qualcuno che stava nell'elenco della SDA ma non è che hai venditato tutto però la cattiva informazione giustamente giustamente porta anche un altro fatto vi ricordate quando io parlavo di abusivismo edilizio faccio un esempio così per buttarla là quando dice ma scusate quella cosa è abusiva perché non la buttiamo giù qual è la risposta non ci sono i soldi vero? questa perché nessuno ha letto che c'è la legge 15 del 2008 che la regione Lazio ha emanato dove ha detto che i municipi i comuni e chi per loro possono attingere ai fondi ai fondi relativi all'abbattimento per l'abusivismo edilizio qui non l'abbiamo mai fatto cioè continua a costruire continuano a costruire a fare casette rosa verdi gialle e il telo è diventato tempo che c'entra la dichiarazione di voto sull'attività per favore su allora la cattiva informazione giustamente va perché se no non possa arrivare la dichiarazione voto e quindi perché qui in questo municipio se ci sono ci saranno senza altro delle opere abusive perché quando abbiamo fatto varie commissioni è uscito fuori che qualcosa è abusivo che i vigili sono intervenuti hanno fatto la denuncia hanno fatto hanno fatto hanno fatto hanno fatto punto gli atti conseguenziali non hanno affatti nessuno o chiudiamo gli occhi e facciamo finta che non sappiamo chi c'è sta dentro pertanto non possiamo buttare giù le baracche che mi vergognerei a vivere in quelle baracche non parlo di altri tipi di ville parlo di baracche che è una cosa differente perché dopo magari mi dicono no ma tu hai parlato delle ville no io parlo delle baracche e la legge 15 se volete viene da una copia articolo 29 eh articolo 29 no non la faccio votare io tanto un voto e vabbè comunque questo è per dirvi avrei inserito come emendamento però non c'è ho avuto tempo scusate perché poi se non partecipo al voto però lo dico lì dato che la giunta ha fatto suo ha fatto suo l'emendamento di Tutino in 448 che dobbiamo portarlo in commissione poi non capisco perché in commissione abbiamo detto no e la giunta lo fa suo e questo non riesco a capirlo no l'ordine del giorno l'ha fatto suo la presidente però ne abbiamo discusso in commissione a momenti di emenano quel porello che sta facendo un sciopero della fame contro la caduta di Marino quindi guardate c'è la razione di voto che c'erano tre minuti c'erano per concludere per concludere io avrei inserito che magari avrebbero soffruito di uno sconto ai possessori della tessera metropolitana o dell'autobus perché è una cosa giusta il pendolare parcheggia la macchina prende l'auto e se ne va e quindi avrebbe diritto a uno sconto visto che già paga un parcheggio però qui del pendolare non ce ne può fregare di meno perché il pendolare pendola e giustamente sta così e a noi continuiamo a dire incrementiamo per municipio quindi come vota consiglio di matronola non partecipa al voto grazie non partecipa al voto consigliere cofano prego fu rimanendo in aula non partecipa a voto grazie presidente no grazie presidente no avendo presentato la delibera di fatto avevo già dichiarato il voto favorevole ma ci tengo scusate un altro consigliere cofano scusate il consigliere cofano sta a intervenimento per cortesia ci tengo a ribadire che il gruppo di sinistra ecologia e libertà voterà favorevolmente alla delibera e così come reputiamo favorevole il fatto che la giunta e la ringraziamo accoglie l'ordine del giorno lodevole del consigliere tutino per cui si inserisce comunque uno studio approfondito sull'incremento significativo della quota dovuto al municipio da parte del gestore mi dispiace che comunque e lo dico umanamente che il consigliere Matronola non partecipa al voto lo dico perché in questi ultimi passaggi ho reputato comunque importante anche il suo modo di lavorare al tema che oggi abbiamo portato in consiglio e il fatto che abbia condiviso un passaggio e che sia stato importante il suo ruolo oggi non ci degna della sua partecipazione al voto ritengo che sia un peccato però detto questo ce ne faremo una ragione e il gruppo Sella comunque voterà favorevole grazie altre dichiarazioni di voto consigliere Giuliano per fratelli d'Italia grazie presidente i fratelli o al singolano o a protale come fratello d'Italia sei solo esatto come fratello d'Italia voterò favorevole perché tra fratelli e sorelle non bisogna mai no bisogna andare d'accordo ma voterò favorevole perché come nella precedente delibera si era messo in evidenza il fattore politico per quello che riguardava il mantenimento dei costi di lavoro per cui fu quello per quest'aula il fattore diciamo principale oggi diventa quello di sistemare un qualcosa che era lasciato al tempo e in forma anche non chiara o perlomeno in forma non regolare con la stessa convinzione il voto sarà favorevole e ripeto che in quest'aula spesso e volentieri si perdono le opportunità politiche di poter dare un proprio messaggio condivido la battuta del presidente di commissione era il momento ovviamente di aver fatto un percorso e di dare il supporto affinché questo potesse essere di riferimento e chiedo alla presidente Fantino di insieme alla sua giunta di accendere dei riflettori perché su altre cose rimaste indeterminate via Polia perché anche lì dobbiamo dare un segnale di correttezza di regolarità anche essendo un problema di origine diversa ma che sia attenzionata può dare lo stesso risultato questo municipio anche se saremo in fine corsa oppure andremo avanti come dice il segretario generale nelle funzioni municipali deve continuare a dare il proprio contributo perché non devono camminare i tre elementi che sono fondamentali per un'istituzione quale la giunta il consiglio e gli uffici si deve lavorare in sinergia per cui se vogliamo fare tre quattro cinque cose fatte bene lo possiamo fare questo è l'inizio ma non dobbiamo fermarci qui grazie grazie altre dichiarazioni consigliere Alonso gruppo PD il partito democratico vota chiaramente a favore avendo lavorato io in prima persona a risolvere questo problema che pendeva sulle nostre teste e a portarlo ad una conclusione speriamo decente grazie altre dichiarazioni di voto non ci sono passiamo alla votazione allora un attimo per favore chi è favorevole per favore consigliere consigliere esteritano cioè allora facciamo la controprova chi è contrario chi si astiene 18 voti a favore quindi la delibera è approvata passiamo passiamo adesso alla mozione articolo 58 memoria di Antonio Calabro presentata da diversi consiglieri tuttino laddaga benassi poli gugiotta carrus cofano e altri allora abbiamo già parlato all'inizio del consiglio prego primo firmatario che è Davide Tutino se vuole illustrarla prima di dargli la parola però siccome mi era stato chiesto all'inizio del consiglio credo di poter raccogliere questa richiesta e di diciamo fare 30 secondi di riflessione per la signora Renzi che faceva spredare il lavoro di vigilesse in questo municipio da diverso tempo di fare 30 minuti di riflessione in suo ricordo 30 secondi grazie presidente grazie riprendiamo il consiglio allora consiglio Tutino illustra in attimo questa mozione presidente io se lei è d'accordo e se si può fare se lei è d'accordo eh scusi in attesa prego consiglio Tutino se lei è d'accordo e se si può fare siccome è puramente accidentale il fatto che io mi ritrovi ad essere il primo firmatario eh perché diciamo è qualcosa che sento che poiché è un argomento che sento che tutti condividiamo e che eh riguarda eh una persona che è stata molto preziosa per il nostro territorio ma non solo per il nostro territorio proporrei se lei lo ritiene e se è possibile a livello di regolamento o anche la possibilità alla presidenza come ha fatto in all'inizio di esporla se lei ritiene perché lei rappresenta tutto il consiglio mentre io mi trovo occasionalmente ad aver firmato per primo per il semplice fatto che oggi eravamo diverse persone di noi diciamo lì ai funerali e chi ha fatto in tempo ha scritto se lei lo ritiene perché le sue parole di prima sono state posso anche farlo ma non non credo che sia regolare insomma ecco allora mi esprimerò molto rapidamente su questo prego chiedere a titolo personale per modo di lavorare in questa delibera un secondo solo se crede il consigliere Tudino magari io non credo che ci sia bisogno di essere interrotto io quindi credo che il consigliere Stiglitano può parlare più tardi allora tutti noi anche chi come me non ha conosciuto personalmente il dottor Calabro è stato in questi giorni colpito dalla sua dal suo aver lasciato questa vita non dico dalla sua morte e egli era e proveniva da un'esperienza che accomuna laici e religiosi e questo è un aspetto che credo ci tocchi tutti che è l'esperienza di aiuto a chi ha bisogno la mozione chiede che il municipio si impegni affinché in iniziative culturali iniziative scolastiche iniziative sociali ed iniziative toponomastiche quindi nel nome dei luoghi delle vie e quant'altro sia ricordato il dottor Calabro quindi questo va certamente anche nella direzione di quanto richiesto oggi durante i funerali da chi gli era vicino non ci sono molte altre parole da aggiungere se non per il fatto che così come altre figure certamente il dottor Calabro rappresenta per tutti noi non rappresentava ma rappresenta un esempio da ricordare non come ricordo ma come memoria vivente grazie 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 a lei allora apriamo la discussione consigliere Stelita sì grazie presidente per una volta ringrazio il consigliere Turino perché ha fatto una cosa fatta bene io chiedevo interrompevo il consigliere prima di esporre l'atto presidente perché la consigliere Vidrotti presidente della commissione dei servizi sociali e il presidente della commissione dei lavori pubblici faranno tra qualche giorno una commissione congiunta visto che è un argomento sociale che Antonio Calabro a differenza del consigliere Dudino io l'ho conosciuto e lo stimo lo stimavo lo stimo e lo stimerò e lo spiegherò ai miei figli che si può fare medicina diversamente si può stare si può essere accademici diversamente non con la plomb ma con la toccandoci sporcandoci le mani sentendo la puzza dell'altro sentendo veramente il sociale come si doveva sentire come è quando un medico giura sul simbolo di Ippocrate è quello il valore il simbolo del medico poi naturalmente ci sono quelli che per farti una puntura per vederti non gliene può fregare meno ma per me quello caro presidente è stato un simbolo e un valore perciò detto questo chiedevo ai firmatari io non l'ho firmata non perché non voglio che si faccia vorrei che si facesse una cosa seria perché l'altra sera quando ho saputo questa cosa ho chiamato il presidente della commissione lavori pubblici e io ho chiesto di dove c'era il contene dove riceveva tutte anche per dare una risposta alla chiesa di Don Bosco e poi qui in aula c'è anche il consigliere come si è? ricordo il consigliere Cristian Lelli che lo conosceva più direttamente perciò chiedevo la possibilità di chiudere e questo argomento adesso riportiamo in commissione e la prossima consiglia utile ma proprio prossimo spero il più presto possibile si fa un atto lavato stirato e ordinato con il dipartimento che quella piazza dove c'è il contene si faccia una bene la piazza o no una targa proprio togliere quella via e metterci il simbolo e il valore anche perché era una risposta alla chiesa di Don Bosco che i poveri si accudiscono no fuori la piazza ma dentro i segnamenti che ci sta facendo Papa Francesco che le parrocchie devono essere aperte e non chiuse alle 8 di sera grazie grazie consigliere Estoritano altri interventi non ci sono passiamo a dichiarazione di voto ci sono dichiarazioni di voto non ci sono passiamo alla votazione chi è favorevole c'è una controprova chi è contrario nessuno chi si astiene nessuno approvato con 16 voti a favore nessun contrario nessuno astenuto consiglio è chiuso grazie grazie